Sarà un quartiere in festa, quello di San Zeno, che attende tutto l'anno un evento così per festeggiare ed aprirsi alla città in ricordo dell'illustre cittadino caro a tutti i veronesi. Gli eventi saranno tanti diversi, legati allo sport, alla musica, all'artigianato e sono previsti anche giochi per coinvolgere i più piccoli. Sarebbero quattro giorni, cioè dal sabato al martedì 21, però abbiamo avuto queste richieste, diciamo che ci ha fatto molto piacere, di festeggiare anche il centenario del San Zeno Calcio, che scade il venerdì 17. Quindi abbiamo inserito anche questa festa, visto che è proprio di San Zeno, all'interno del Patrono. Quindi da venerdì sera iniziamo con il centenario del San Zeno Calcio, con molti ospiti, da calciatori, ex calciatori del San Zeno, ci saranno anche personaggi dello spettacolo e poi si concluderà anche il concerto dell'Albi Band, sempre venerdì sera. Da sabato inizia il Patrono e quest'anno il Patrono il tema sono i balli, i balli in piazza. Partendo subito dal sabato sarà la serata country, quindi avremo delle scuole di ballo country e una band che arriva da Treviso, Ellie Joyce Country Band, e quindi la serata sarà proprio un po' tutto quanto western. La domenica invece sarà dedicata allo swing, al ballo swing anni 30 e 40, siamo anche qui con scuole di ballo con Blue Energy School, che faranno loro l'animazione, e con la band Sweet Peanuts Orchestra, proprio vestiti d'epoca e suoneranno proprio swing anni 40. Il lunedì invece dedichiamo al latinoamericano, con le scuole di salsa qui di Verona, insieme con altre collaborazioni, anche col PICA, con altri locali qui dove regolarmente fanno scuole di salsa latinoamericana. Il martedì invece, che è la festa del Patrono, chiuderemo con l'orchestra mosaica, quindi balli da tutto il mondo. L'orchestra mosaica è formata da circa 20 musicisti qui di Verona, che abitano a Verona, sono da tutto il mondo, diretti dal maestro Marco Pasetto, e quindi all of the world.